Il nostro atleta Carlo dell'Ascoli che purtroppo prematuramente ci ha lasciato. So che l'Ascoli ha in memoria di questo ragazzo, ha fatto delle magliette con il suo volto e questo è un altro messaggio importantissimo perché non possiamo dimenticare persone che come noi hanno portato questo messaggio sempre avanti. Grazie.